I genudi ho fatto PINCIA PINCIA Se devo fare il raccoglio con il cimino A voi devo fare il cimino Non è che sia la nada Il problema è che non capisco come mai Proviamo Cioè con un giro in più Beh ma con il giro del basso adesso che lo abbiamo fatto Ora è raggiunto un po' Eh ma è poco Se l'altra ripetendo il contesto E' come se facciamo poi un giro in più No per bello Vedete che non è proprio pari stavolta ecco perché ti dice domanda da provare tu inizi e finisci in questa cosa con un suo giro più basso e come fai a non starci con la voce e con il posto perché noi non iniziamo proprio con la voce iniziamo prima con la tastiera e il posto ci sono dei giri voti e non faccio questo prezzo faccio un'altra cosa la matematica è bella non capisco dove vai ho fatto analisi 3 no, ma riproviamola con la voce e vediamoci dai, se taglia io non taglio il campo noi però siamo qua 3 anni dai, dai, proviamola con la voce direttamente direttamente la voce è bella Non mi chiamiamo di me 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 Perché poi attacco di nuovo Un limito per qualche volta Eh no, ma si attenzione di nuovo Però noi facciamo anche il giro E non c'è... Allora, continuiamo a giro Perché qua venisco io il giro E no, vai, ci andiamo a casa per il giro Allora, faccio un po' di nuovo Perché mi chiami devi evitare Allora, allora ti dimostro Allora, ti dimostro con la voce che voglio Vai, entro Ora ti dimostro l'oliva E riprendiamo dalla voce No, ti prendiamo dalla voce E riprendiamo dalla voce Guarda, se non fosse perché sei davvero divertente No, ma non è divertente Perché non rientra qua, pure ora te lo faccio vedere Non mi chiamate Mi... 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 E... Mi Mi... 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 No, 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 no No, no, tu stavi andando già all'inizio No, stavi andando alla fine però No, no Cioè, attenso suo, attenso mio No, 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 non puoi fare Cioè, guardiamo lei Ma sento lei quando ci dobbiamo fermare Perché non abbiamo capito quando ci dobbiamo fermare Però mi è trompato No, ma poi guarda lei che secondo me non viene Perché non hai capito bene dove ci dobbiamo fermare No, io l'ho capito dove si ferma Ma è che si trono da tutto il riff Perché il mio riff finisce l'ho qua Sì, quello è toccato No, 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 no No, quello no No, no, no Cioè, solo time Vabbè, anch'io anche Ma come con il night? No, perché il riff è sempre uguale La tua invece cambia Però proviamo a farlo così dagli altri Se sta bene lo facciamo Riproviamo La tua invece cambia Grazie a tutti. 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 a tutti. , 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 ,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,,,, ,,,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,, ,,,,, ,,,, ,,,, ,,,,, ,,,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,,,, ,,,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,,,, ,,,,, ,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,,,,,, Grazie a tutti 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 Grazie a tutti